A Pescara il cimitero Colli Madonna conclude i lavori di restyling proprio in tempo per la ricorrenza di ogni santi. Abbiamo ritenuto di dover un restyling delle tante troppe cose che non andavano all'interno del cimitero e che rendevano anche disagevole la visita da parte dei parenti e dei defunti. Quindi piccole sistemazioni di gradini, di scalinate, di porte di accesso, della stessa sala mortuaria, così come rispondendo a una interrogazione e a una mozione dei consiglieri di maggioranza, ricordo Lola Berardi e Adamo Scurti, quindi anche un'accoglienza più decorosa di quello che era prima una fredda stanza che ospitava i feretri. Quindi un restyling all'insegna della funzionalità, del decoro, della decenza, che in questa occasione poi capita con la commemorazione dei defunti e quindi credo che sarà, come già ci viene detto, molto apprezzata da chi viene a fare visita ai propri cari.